Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ciao, 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 ciao amici di Zlogotime, ben ritrovati in questo video. Oggi andiamo a parlare dei mondiali del Qatar 2022 che sono qua, sono qui alle porte. Sappiamo bene, purtroppo la nostra cara vecchia nazionale italiana non vi parteciperà per il secondo anno di fila, ma noi siamo qui per parlare di grafica e di loghi e quindi andremo ad analizzare quelli più belli del torneo. Come sempre, ovviamente, prima di iniziare vi chiedo un bel like di sostegno, scrivetemi nei commenti se siete d'accordo con quello che vi dirò più avanti e quali sono invece i vostri loghi e maglie preferiti di questo torneo, ce ne sono alcune davvero interessanti, d'altro a parte quello di seguirmi sui social, trovate tutti i link ovviamente nella descrizione del video. Però adesso iniziamo perché sennò viene fuori un video di tre ore e mezza, che non è il caso, quindi ho deciso di parlarvi di una singola squadra per ogni girone. Perciò partiamo ovviamente dal girone A. Per il girone A ho deciso di parlare della squadra che ospita questo torneo, ovvero il Qatar. La maglia del Qatar, prevalentemente granata, con dettagli bianchi, stessi colori ovviamente della bandiera nazionale, così come i dettagli geometrici sui bordini delle maniche. La maglia Way invece riprende le tonalità della sabbia, ovviamente perché ce n'è un sacco di sabbia in Qatar. Logo federale sul cuore e logo Nike invece in granata. Colore emotivo geometrico invece richiama la pesca delle perle sui fondali. Per quanto riguarda invece il logo della federazione, è abbastanza semplice. Circolare con le iniziali Qatar Football Association, un pallone al centro che va a riprendere anche con delle trame arabeggianti, quindi molto classiche, e appunto anche la scritta sopra, essa stessa, araba. Niente di eccezionale, però c'è sicuramente di peggio. Girone B. Girone B ho selezionato l'Inghilterra, la nazionale dei tre leoni. Adesso vi spiego bene perché. Il completo, casalingo ovviamente, classica divisa bianca, con però sul collo e sulle spalle un gradiente di blu che va a sfumare sull'azzurro per poi tornare di nuovo sul bianco. Anche qua niente di stravagante, di eccessivo. Classica della nazionale inglese. Così come la maglia Away che va a riprendere lo stile degli anni 90. Base rossa con colletto blu scuro, elementi grafici in azzurro, quindi si va a riprendere comunque i colori della prima maglia. I bordi delle maniche della parte inferiore della maglia, anch'essi sono in blu scuro. Lina appunto molto tradizionale, a parte Swoosh e Stemma della Federazione Inglese, che sono riempiti con un azzurro fluorescente. Cosa ovviamente più interessante della nazionale inglese è lo stemma dei tre leoni? Perché ovviamente ci chiediamo tutti, ma perché tre leoni? Cosa ci fanno tre leoni? La storia che accompagna il logo della nazionale inglese è da datarsi addirittura al XII secolo, quando uno stendardo con tre leoni d'oro in campo rosso fu portato in battaglia per spronare le truppe. Il primo leone era di Enrico I, aveva un leone sul proprio stendardo che prese il potere nel 1100. Poco dopo sposò a Delizia, il cui padre aveva anch'esso un leone come stendardo di famiglia. E per celebrare la cosa, Enrico I aggiunse un secondo leone allo stendardo reale. Infine nel 1154 i due leoni divennero tre quando Enrico II sposò Eleonora d'Aquitania che anch'essa aveva appunto un leone come stendardo di famiglia. Tardi Riccardo Cordileone, ecco che passa un'immagine del tempo, utilizzò i tre leoni come simbolo del regno inglese e da lì in poi tutti i regnanti lo utilizzarono. La federazione inglese quando nacque ebbe in vita abbastanza facile nello scegliere lo stemma. Andiamo al girone C, un altro molto interessante. Ho selezionato per voi il logo e la divisa del Messico. La prima, che richiamano all'antica tradizione messicana, la divisa casalinga ha come elemento principale il classico colore verde con strisce rosse, la grafica geometrica sulla maglia invece è nera ed è un richiamo al dio Azteco Quetzalcoatl, più o meno, noto anche come il serpente piumato. La maglia da trasferta anch'essa riprende il dio piumato, il serpente piumato, una grafica che riempie tutta la divisa per intero. All'interno del colletto, tra l'altro, è presente una rappresentazione di Quetzalcoatl. Per quanto riguarda il logo del Messico, invece, c'è una bella novità, perché infatti per la prima volta in un torneo viene utilizzato il nuovo logo della federazione messicana, fresco fresco di rebranding, con riferimenti sia alla bandiera, sia alla cultura messicana. Infatti, nel design nuovo, sono presenti elementi come la pietra del sole e l'aquila, appunto ripresi dalla cultura azteca e maya, mentre il resto degli elementi grafici sono presi da varie epoche calcistiche, prese famose anche grazie alla nazionale messicana. Nel complesso, però, è decisamente molto, ma molto meglio rispetto a quello passato, un po' troppo pieno di dettagli e che tante volte si faceva fatica a capire. Continuiamo con una delle nazionali, forse è la nazionale favorita per questo torneo, che è la Franche. Classica divisa casalinga, il colore blu, ben visibili sui bordi e meno appariscenti sul corpo della maglia, troviamo dei motivi floreali, svush della Nike e lo stemma del galletto francese sono invece in oro per comunque celebrare il fatto che la Francia è la nazionale campione in carica. La divisa da trasferta, invece, la trovo molto più bella e più caratteristica, perché ha una base bianca con una fantasia che raffigura simboli, figure ed elementi architettonici centrali nella tradizione francese. Anche nel caso della Francia, così come per l'Inghilterra, ci si domanda spesso che cosa rappresenta il gallo e perché è stato scelto come stemma, come figura rappresentativa della nazionale. La sua associazione risale al Medioevo, così come per l'Inghilterra, ed è dovuta al gioco di parole in latino tra gallus, abitante della Gallia, e gallus, gallo. Poi sviluppata dai re di Francia come forte simbolo cristiano. Siamo, ne mancano giusto tre, quattro. Giappone, Girone, E. Nel Girone E ce ne sono un paio interessanti, ma il Giappone sicuramente è quella più interessante. Divisa home, infatti, del Giappone ha un aspetto moderno e artistico. I colori principali sono il bianco e il blu, che sono integrati perfettamente con un pattern che richiama i classici e tradizionali origami giapponesi. Il kit Away, invece, è in pieno stile vintage. Scollo a V, colore principale bianco che viene arricchito lungo le maniche da origami stilizzati in rosso e blu, dall'aspetto grafico molto, ma molto simile a quella della maglia in casa, quindi della maglia home. Il logo, invece, che è stato introdotto agli scorsi mondiali, quindi ai mondiali di Russia 2018, è un simbolo del Giappone, ovvero lo Yatagasaru, un corvo, un mitico corvo, a tre zampe, e anche il messaggero della suprema Dea Shintoista. Siamo al girone F, F come belgio, la divisa casalinga dei Red Devils e Diavoli Rossi rimane fedele ai colori della bandiera nazionale, base rossa con texture oscull in rilievo. Le maniche nere, la parte inferiore, invece, sono caratterizzate da una fiammata sfocata che si mischia agli elementi grafici in giallo, arancio e rosso. La divisa da trasferta, invece, è molto, ma molto interessante perché è bianca, gli elementi sono colorati e rappresentano il Tomorrowland, il famoso festival musicale che si svolge ogni anno in Belgio. Il logo, invece, introdotto recentemente, anche questo, perché è stato introdotto ad Euro 2020, 21, sappiamo che poi si è impostato in là di un anno, cavalcando lo slancio della riorganizzazione interna della Federazione Calcistica Belga e del successo competitivo anche dei Red Davis tra mondiali ed europei, la Feder Calcio ha chiesto di riprogettare un'identità visiva completamente nuova. La vera sfida era trasformare l'iniziale URBSFA in un RBFA, quindi Royal Belgium Football Association. I designer sono partiti da un'analisi storica approfondita dei significati e del simbolismo dello stemma belga, ciò hanno deciso di cambiare completamente strada e hanno riprogettato tutto dall'inizio. Il fulcro di questo nuovo rebranding è una B minuscola colorata con i colori della bandiera belga, sopra una corona e sotto una corona dall'oro. Devo dire che poi nel complesso anche questo logo qua molto meglio rispetto a quello precedente, molto più leggibile e sicuramente anche utilizzabile in versioni monocromatiche o come fatto con la seconda maglia di questi mondiali colorati in una maniera un po' più audace e particolare. Anche nelle ultime due dai ci siamo adesso parliamo di due compagini perché parliamo del Brasile la prima quindi il girone G la maglia casalinga è gialla ovviamente con elementi in verde e blu la texture in rilievo della maglia invece è caratterizzata da una fantasia maculata che è un richiamo all'animale simbolo del Brasile ovvero il giaguaro questo richiamo è ancora più evidente nella maglia da trasferta maglia blu ovviamente dove le macchie però sono stampate lungo le maniche e sono colorate in giallo e verde bella l'idea però secondo me e anche il Brasile come tante delle nazionali che abbiamo visto prima si presenta a questi mondiali con un nuovo logo perché il Brasile l'ha presentato giusto prima durante le qualificazioni per Qatar 2022 un'ente di trascendentale però un ottimo rebranding partendo già da un'ottima base e infine arriviamo alla maglia e al logo del Portogallo il nostro caro si si Portogallo che si presenta alla rassegna iridata con divisa casalinga che si distingue completamente da quelle vecchie che erano sempre state solo rosse la nuova maglia sviluppata da Nike invece ha pantaloni verdi con una striscia che poi passa sulla maglia così quindi alla maglia bicolor all'altezza del petto poi troviamo lo sistema della federazione da una parte e lo swoosh della Nike in giallo divisa da trasferta invece che secondo me è una delle più belle del torneo è in bianco opaco bravi molto bravi con i colori della bandiera portoghese posti su una fascia centrale un poco più in basso del petto con una lieve predominanza amaranto così come nella bandiera nazionale e infine siamo arrivati all'ultimo logo da analizzare da spiegare un attimino che è appunto quello della federazione calcistica portoghese che usa come base quindi dietro tutto c'è la croce di Cristo con uno scudo al suo interno cioè dentro il quale dentro lo scudo dentro il quale scudo è presente la sigla FPF quindi federazione portoghese di football nella parte superiore in oro lo scudo all'interno bianco e contiene le cinque chinas proprio come la bandiera nazionale le cinque chinas sono cinque scudi che rappresentano la vittoria del primo re di Portogallo che sconfisse i cinque mori e riuscì a unificare il Portogallo sotto un unico regnante signori siamo arrivati alla fine di questo incredibile viaggio tra loghi maglie grafiche di Qatar 2022 spero che vi godrete questo mondiale e noi vabbè ci rivediamo poi dopo i mondiali ragazzi ciao ciao